su canale 5 mercoledì 7 gennaio 2015 prende il via solo per amore la nuova fiction in dieci puntate prodotta dalla endemod un cocktail a base di passione intrighi e bugie che si nasconde dietro l'apparente perfezione della famiglia ferrante sconvolta da un drammatico evento un family noir diretto da raffaele mertes con protagonisti caspar caparoni antonia liscova massimo poggi e valentina cervi che promette di tenerci incollati al teleschermo un po thriller un po melò ha scelto queste parole antonino antonucci per presentare la nuova fiction della rete ammiraglia mediaset non mancherà una corposa dose di passione con scene anche travolgenti in solo per amore la serie tv che inaugura il 2015 su canale 5 quanti ostacoli deve superare quanta sofferenza è disposta a sopportare una donna pur di proteggere la propria famiglia e questa una delle domande centrali della trama la donna in questione è elena ferrante brillante avvocato in carriera la cui vita viene sconvolta quando suo marito pietro mancini viene rapito in circostanze misteriose le indagini vengono affidate al vicequestore giordano testa il quale personalmente coinvolto nel caso essendo una vecchia fiamma di elena chi ha rapito pietro e per quale ragione elena comincia una ricerca della verità che inizia a minare tutte le sue certezze sullo sfondo c'è roma una città affascinante ma anche controversa dove a sfarzose ville dell'appia antica fanno da contrasto alcuni squalli di locali notturni